Non siamo quelli che difendono a spada tratta un ospedale perché è del territorio, ma le eccellenze dell'ospedale Fucito sono sotto gli occhi di tutti, vanno mantenute e rilanciate. Io credo che debba essere, continuare ad essere un riferimento per la comunità e soprattutto mi pare un delitto, ma insomma sono qui anche per comprendere, privarsi di alcuni servizi che sono stati eccellenza, quali ad esempio quello di ostetricia, ginecologia e pediatria. In termini più generali, rispetto al decreto Balduzzi, che è quello vigente oggi, che prevede la chiusura di alcuni ospedali anche della nostra provincia, vi è una motivazione forte del Presidente De Luca di non chiudere nessun presidio. Sicuramente sarà potenziata la rete dell'emergenza che poi l'ha disposta immediata, che va data all'autenza, per il resto aspettiamo che venga redatto questo piano in modo ufficiale anche per poterci confrontare e cercare di contenere i tagli che comunque ci saranno, ma non soltanto qui, ma in poco diffusi su tutto il territorio.